benvenuti e bentornati a blogotech.it oggi per la nostra rubrica una pal giorno parliamo di un'applicazione interessante parliamo di light manager un'applicazione che appunto come molti di voi conosceranno gestisce il nostro led se avete il led nel telefono ma ormai ce l'hanno quasi tutti andiamo a cercarla sul play store allora fatemi iscrivere light manager ce l'ho già qua eccola già installata andiamo dentro l'applicazione il suo peso è 0,88 mega quindi ridicolo sviluppata da macq vediamo i voti 3,9 di solito le applicazioni che gestiscono il led sono sempre un po' controverse diciamo che secondo me quello che fa scendere un po' la votazione a questa app è il suo draining cioè la voglia di energia che ha una business che ha molto batteria e poi vabbè ci sono sempre i soliti che si lamentano che non riescono a farla funzionare ma guardando le nostre recensioni magari riuscirete tranquillamente a farla funzionare facciamo finta di averla scaricata e torniamo nella nostra schermata principale andiamo nelle applicazioni ed eccola qui light manager apriamola ci troviamo anche qui di fronte a un lungo menu andiamo piano piano a spulciarlo modalità operativa ci dà la possibilità di scegliere normale alternata con un timer o disattivata noi ovviamente la vogliamo normale si può riavviare una volta impostato tutto per dare una solidificazione delle impostazioni e c'è una configurazione avanzata in cui si ha la modalità di scegliere se sì o no all'avvio al boot se si vuole vedere un'icona eccola ma a noi non interessa non piace si possono scegliere se vedere le notifiche o il pop up abilitare il periodo di quiete con il suo relativo orario le eccezioni di notifica anche nel periodo di quiete l'intervallo di cambio notifica dell'evento la sua disattivazione e la luminosità poi c'è la luminosità del led noi scegliamo il luminoso la durata della sua accensione la static led si può scegliere il tipo di lampeggio e se spegnere il led dopo lo sblocco poi si possono addirittura mappare i colori con i codici cosa che mi sembra un po' articolata perlomeno per me mi becco quelli di default e vanno bene impostare i nuovi valori default impostazione del grigio e un backup o un restore ok torniamo dietro qui siamo ai settaggi led per le notifiche ci sono tantissime voci come vedete c'è la chiamata persa il messaggio la mms gmail il promemario del calendario e hangouts e mail facebook facebook manager twitter whatsapp bbm line go sms pro nsentence ms chomp sms e poi ci sono applicazioni da scegliere intanto guardiamone una per completezza c'è il flag per attivarlo o disattivarlo il tempo di intermittenza da scegliere il colore da scegliere si può fare il test in cui però è necessario spegnere lo schermo per vedere il led come funziona adesso non lo faccio se no si interrompe la registrazione e se si vuole aggiungere quel colore quella modalità di intermittenza ha un contatto predefinito particolare bene queste applicazioni valgono per tutte le voci che vi ho fatto vedere ma se in mezzo a queste voci non c'è ciò che voi desiderate come ad esempio io ho trovato la mancanza di outlook si va qui e lo si attiva ok e poi vabbè lo si sceglie ok e in questo caso noi abbiamo aggiunto outlook a cui si sceglierà il colore e quant'altro vi faccio vedere se vogliamo modificare l'intermittenza 4 secondi a me va bene 3 il colore diciamo che mi piaccia facciamo le cose strane rosa ok non posso farvelo vedere se no si può rimuovere dalla lista o fare il test benissimo si possono aggiungere 1, 2, 3, 4, 5 applicazioni diverse dalla lista poi ci sono i settaggi per la batteria quindi se volete il led quando la batteria è scarica quando è in carica o quando è stata ricaricata infine i settaggi di led per la connessione di rete quindi quando siete senza copertura se c'è l'assenza di 3G, 4G in realtà ci sono ancora non andava giù mi stava traendo l'inganno e l'assenza di wifi e poi i led per lo stato quindi quando avete la modalità silenziosa la vibrazione la connettività dati attiva il wifi il no spot il bluetooth più altre varie come il test ancora e le fac bene direi di aver recensito tutto per questa applicazione il voto è 7 in quanto comunque è molto 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 facile molto completa funziona bene ma assorbe veramente tanta energia quindi munitevi di una batteria con 3000 mAh almeno scherzi a parte voto 7 buona applicazione direi che per oggi per la nostra app al giorno light manager è stata recensita per gli utenti di blogotech un saluto e ci vediamo su www.blogotech.it o su facebook o su google plus o su twitter o cercateci sulla ricerca di google ciao a tutti